. Francisco Porcella costretto a ritirarsi da Ballando con le stelle? Ecco perché. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Cancelletto Ballando con le stelle, il programma condotto ogni sabato da Millie Carlucci su Rai 1. . Le ultime novità svelano che un altro concorrente potrebbe abbandonare il gioco dopo l'annuncio di Giovanni Ciacci ha detto fatto. . Nuovo ritiro a Ballando con le stelle? Le novità sulla tredicesima edizione di Ballando con le stelle svelano che Cancelletto Francisco Porcella si è infortunato mettendo in forza la sua partecipazione al programma di Rai 1. . Una nuova tegola per Millie Carlucci dopo che Giovanni Ciacci sembra abbia deciso di ritirarsi dal talento danzante, dopo il malore susseguito all'esibizione con Raimondo Todaro. . Come abbiamo visto l'esperto di moda è intervenuto a detto fatto, il programma di Rai 2 condotto da Caterino a Balivo, dove ha confessato che ha avuto uno sbalzo di pressione arteriosa, dovuta alla troppa pressione mediatica. . . Qui la decisione di avere un confronto con la biondissima padrona di casa, che ha espresso parole di elogio per Albano e Romina Power nel corso della puntata di Oggi di Storie Italiane. . 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 costole durante le prime puntate del programma di Rai 1. L'attrice in questo caso aveva stretto i denti e continuato a ballare a fianco del suo maestro come il protagonista di Furore 2, Massimiliano Morra che aveva rimediato un bello zero dopo la sua esibizione. A darne la notizia è stata la Stella Milli Carlucci, che pubblicato un video dove ha parlato che alcuni dei ballerini stanno attraversando una fase molto difficile della loro permanenza. Infatti ha reso noto che Francisco Porcella si è infortunato, sebbene non sia chiara la gravità del danno. Non ci resta che attendere sabato per scoprire se Francisco Porcella sarà costretto ad abbandonare ballando con le stelle oppure no. Per altre notizie su Ballando con le stelle vi basterà seguire il sito Blasting News.